Devi fare punto sì, che domanda è? Uno su tre Dai colpo Sì, sì, ma non c'è lì Bravi Bravi Uno su cinque Sbatti e paia tutte bravi Sbatti e paia Buona l'altra parte Sbatti e paia 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 Quattro su otto Sbatti e paia Sbatti l'altro Sbatti e paia Vist 30 Cinque su nove Sbatti, buona l'altra Cinque suünü Guarda, sui due E alla parte Il swatch Vist 31 . Uno, da alzu Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.